Buon sabato a tutti, ci tengo a darvi questo avviso perché mi è capitato di leggere diversi messaggi dove persone mi chiedevano che era decaduto il sussidio del reddito di cittadinanza perché erano state chiamate dal centro per l'impiego e malauratamente avendo dei problemi non si sono presentati. Anche il mese di giugno, come già è successo a maggio, aprile, marzo, arriveranno messaggi da parte dei centri per l'impiego. Quando vi arriva un SMS vi dovete presentare al centro per l'impiego la data stabilita e all'orario. Se non andate è inutile perdere tempo perché il sussidio decade e non potete fare più richieste perché devono passare almeno sei mesi, a dicembre il reddito non ci sarà più, quindi c'è l'ultima ricarica che arriverà a dicembre e quindi restate senza. Pertanto ribadisco ancora una volta, se vi arriva la comunicazione per l'appuntamento vi dovete presentare. Nel caso in cui avete un problema di salute vi fate fare il certificato medico dal vostro medico di base, comunicate al centro per l'impiego prima dell'appuntamento, non dopo, prima dell'appuntamento che siete impossibilitati e avete il referto medico e fate un nuovo appuntamento. Se lo fate dopo la data che vi dovevate presentare è inutile, decade il reddito di cittadinanza.